Sì, un preguardo importante, un preguardo che ci fa veramente felice, un preguardo che in qualche modo vogliamo festeggiare e celebrare assieme a tutti quelli che ci hanno portato questi risultati. Ma direi che forse il punto fondamentale è questa installazione che sarà nel pieno centro di Bologna, che simula un astuccio e che un po' è lo spirito di quello che stiamo facendo. Bene festeggiare, ma guardiamo anche il futuro e sarà un modo per coinvolgere non solo i collaboratori, ma tutta la popolazione e il territorio sul loro pensiero, sulla loro idea di futuro, in modo tale da condividere questo futuro che ricordiamoci o lo facciamo assieme o non ci sarà. Per la prima volta abbiamo portato delle macchine automatiche in Piazza Maggiore, ben due, una degli inizi, una di 50 anni fa più o meno, e una fatta adesso. Guardate anche in maniera scaramantica, ci sono macchine che fanno astuzzi, producono astuzzi, le macchine noi le definiamo astuzziatrici, tipiche macchine dell'industria farmaceutica. Quella di 50 anni fa fa 50 astuzzi al minuto, quella di oggi ne fa 500. Lascio a voi pensare quanta tecnologia è passata, quante cose sono cambiate da 50 anni fa.